Buongiorno signori, è tradizione sua di dare il benvenuto individualmente a tutti voi. Oggi DxN è 20 anni. Oggi festeggia il ventesimo anno di costituzione dell'azienda. Ed è stata praticamente studiata e ha praticato la ganoterapia da 12 anni. Cioè lei ha iniziato come nurse e ha studiato praticamente a Londra. E ho specializzato in cancer nursing. Specializzata in... Cancer nursing. Cancer, taking care of cancer patients. Nello studio delle cellule cancerogene. Ok, quindi dovreste pensare, con il mio background di nursing background, perché veniva a DxN? Vreste pensare, perché Jane, con il mio background di nursing, veniva a DxN? Tenete, terrete praticamente in, come vostro pacchetto, la sua esperienza e il suo background nella conoscenza della terapia. È arrivata alla DxN come ultima, praticamente, soluzione. 12 anni fa, mio padre aveva una struccia. Mio padre aveva una struccia. Ah, per prima cosa, suo padre ha avuto un ictus. E il dottore ha dato speranza perché ha scoperto molte volte. E il dottore gli ha consigliato della terapia perché perdeva sangue. So he was bleeding. E quando ha iniziato l'uso del Ganoderma, gliel'ha consigliato e gliel'ha dato a sua madre. E in tre mesi, mio padre è guarito completamente dall'ictus. E in tre mesi, suo padre è guarito dall'ictus. Comunque, poi, poco dopo, suo padre ha avuto un cancro. E, ovviamente, il cancro era già praticamente in fase avanzata. E il dottore gli aveva detto che c'erano poche speranze. E, ovviamente, gli ha dato i prodotti della DXN al suo padre. E il mio padre, fino a oggi, è sano. E è tornato praticamente in salute. Quindi, arrivo qui con tutto il mio cuore. Voglio essere grata alla DXN per come ha trattato me. E sono stato benedetta per avere l'opportunità di passare questa sua conoscenza che ha avuto. ad altre persone. La DXN è una compagnia che tratta il ganoderma. Non è solo una multinazionale. She gives you all the super products in DXN to help mankind. Cioè, i prodotti, appunto, sopporta con i prodotti che sono validi per la salute. E' per quello che, per fortuna, godo di buona salute. E' felicità. E' felicità. Let's look at this. DXN is already 20 years old. La DXN compie adesso 20 anni. And you look at 20 years ago. Ritornate indietro nel tempo di vent'anni fa. DXN was nothing. La DXN non era niente. Dr. Lim, our CEO, he works very hard to develop the company. But today, our world founder, the CEO, Dr. Lim, has paved all the pavement steps for us to become successful. And, of course, as long as you want to move on, to help people develop the business, and the sky is your limit. Cioè, fino a che, praticamente, l'intesa è quella di cercare di aiutare le persone, hai comunque sempre il cielo dalla tua parte. I'll give you an example. Vi do un esempio. I sponsor Mr. Cocho Laszlo. Lei ha sponsorizzato il signor Laszlo. But because Mr. Cocho Laszlo, he's young, he works very hard. Perché lui è giovane, è un fisico, praticamente. And, of course, he's more successful than me. E anche perché è diventato più, ha avuto più successo di me stessa. E quindi è buono, questo sistema, è sicuramente di successo per ognuno di voi. Cioè, l'importante è avere la volontà di salire le scale. In qualsiasi posizione, in qualsiasi persona voi siate. You can be successful. And you look at this. The XN has given me health and happiness. This is my father. Gloria è la sua famiglia. Lui è il suo padre. He's 86 years old. And? 86. My father is, yes. You look at, in the year 2001, he had a stroke, he had so many operations on his brain. Cioè, lì è dove ha avuto, praticamente, l'ictus e i trattamenti. And, of course, with Gododerma, he recovered from his stroke. Con il gonoderma, praticamente, è guarito dall'ictus. And, unfortunately, in June 2007, he was diagnosed to have prostate cancer. Ecco, cioè, il 26 di giugno del 2007, ha iniziato l'altra malattia, che è stato, appunto, il cancro alla prostata. And it was a late stage. Ed era in fase avanzata. You are not a doctor, you will be able to see this bone skin. Cioè, vedete, praticamente, dalla fotografia, come era, praticamente, in condizioni piuttosto disastrate. Comunque, con l'aiuto dei prodotti della DXN, my father is healthy today. Adesso, suo padre è di nuovo in salute. So, I have been giving him the products, you can see, from 2005, his PSA dropped to normal level. Cioè, lì c'è tutta la lista dei prodotti e le date in cui ha iniziato a dargli, dal momento in cui era, praticamente, malato, fino al momento che è ritornato in salute. And this is what DXN can give you. Questo è un esempio. Give you good health. And, of course, we are one, one market. Cioè, un mondo, un mercato. It's a very powerful system. Founded by Dr. Lim. È un sistema molto potente. You are registered in Italy. But you can go all over the world to sponsor other people, or even help other people. Cioè, voi siete registrati qui in Italia, ma, praticamente, il prodotto è venduto in tutto il mondo. We haven't met our CEO, this is Dr. Lim. Dice il dottore fondatore. And we must be thankful to our Mr. Cocho Laszlo, because of him. He brought all the products to Europe. Che, dobbiamo essere, dobbiamo ringraziare il signor Laszlo, che è stato, praticamente, l'ideatore di portare i prodotti in Europa. E così abbiamo iniziato in Europa nel 2008. E adesso stanno vendendo in più di dieci stati in Europa. E questo è dove siamo, in Hungary, nel 2008. Questo è una foto del 2008. Adesso siamo, praticamente, stiamo festeggiando il quarto anno insieme. La DXN vi dà buona salute. Senza salute, purtroppo, è difficile vivere. La salute è importante. Ok, now DXN, in 20 anni, ha già penetrato più di 150 paesi. Adesso, in vent'anni, sono riusciti, praticamente, a penetrare in più di 150 paesi. E siamo molto grati al dottore, che è il fondatore. Cioè, con tutti i certificati qui, anche la TGA d'Australia. Cioè, i certificati della TGA d'Australia. Quindi, possiamo dire che DXN dà il miglior ganoderma. Cioè, questo è per garantirvi che vi diamo il miglior ganoderma. Abbiamo diversi riconoscimenti. E qui è dove, praticamente, abbiamo avuto successo in Pakistan, perché abbiamo salvato, praticamente, dei bambini. Il background del dottor fondatore, che non vi dico il nome perché... Cioè, lui ha continuato a seguire, praticamente, l'operato della madre. Quindi, lui è, praticamente, un ricercatore della potenza del ganoderma fin dal 1980. Cioè, lui ha continuato, poi, anche l'uso del ganoderma per altre funzioni. Il prossimo mese, verrà in Italia. Cioè, se volete, potete prendere l'occasione per salutarlo. E ha avuto un sacco di riconoscimenti in tutto il mondo. Cioè, siamo molto orgogliosi di lui. Non è solo una grande personalità in Malesia. È un uomo ben conosciuto come una persona di successo in tutto il mondo. Prima di iniziare a spiegarvi cos'è il ganoderma, Cominciamo a parlare del perché abbiamo o soffriamo di diverse malattie nel mondo moderno. La mia preoccupazione è che il numero uno è il numero due è il risultato del ganoderma e il ganoderma. Cioè, una volta, per favore. Cioè, i suoi problemi principali da combattere sono i problemi di cuore, della pressione e il cancro. Sono diversi tipi di cancro. Nel 1900 le mortalità erano per influenza, nella maggior parte. Nel 1950 Hanno cominciato invece a morire di disturbi cardiaci e di cancro. E ancora oggi siamo nella stessa condizione. Se non cerchiamo di fare qualcosa, Se non cerchiamo di fare qualche cosa, Che arrivando nel 2030 ci sarà una mortalità ancora maggiore di persone con cancro. E, in realtà, tutto questo può essere prevenuto da voi e da me. Ma si può fare qualche cosa per cercare di prevenire... Non possiamo permettere di questo di succedere ai nostri amici nella famiglia. Cioè, in modo particolare, se c'è qualcuno della nostra famiglia, vicino, persone vicine a noi. Cioè, tutti gli stati stanno cercando praticamente di insegnare alle persone a cercare di darsi da fare per rimanere in salute. E come mai, allora, il problema del cancro è in continua ascesa? Se non capite i fattori che contribuono alla città e al cancro, Non potrete mai trovare soluzioni se non sapete quali sono le cause che portano al cancro, praticamente, alle cellule cancerogene. Cominciamo a vedere qualcosa in... Questo è il nostro cibo malese e è molto salutare. Questo è il nostro tipico cibo malese, è molto salutare. E se venite in Malesia, venite praticamente nel paradiso del cibo, potete avere cibo per tutto il giorno, 24 ore su 24. Ma quale tipo di cibo ingeriamo? Cioè, a volte ingeriamo troppe calorie e acidi. E che per il nostro cibo in Europa? In effetti, mio figlio e io, abbiamo venuto a Europa molte volte. Infatti, noi siamo venuti, io e mio figlio, siamo venuti in Europa molte volte. E apprezziamo il cibo europeo. Sì, cioè, contiene acidità e... Inoltre, come genitori, diamo ai nostri figli un sacco di nuovi preparati che... Ma se guardiamo le etichette che ci sono sui vari prodotti... Cioè, c'è la data di scadenza sul cartellino, sull'etichetta. Ok, you can see that the longer the expired date, that is the longer the shelf life, the shorter is ours. E più è lunga la vita del... Non del prodotto, del... Dove si mette sulla roba... Perché ci sono molti additivi. Perché ci sono molti additivi. E cosa per questo? Miamo troppo? Perché mangiamo troppo? Possiamo mangiare un uomo per survivre, ma oggi siamo mangiare tantissimi uomini. Adesso mangiamo in continuazione. Non solo questo, il uomo è così grande. E in più, oltretutto, è molto molto il cibo. Mi ricordo quando mio figlio, William, era un piccolo figlio. Mi ricordo quando mio figlio era ancora piccolo, che andando praticamente a comprarlo nei mercati, i prodotti erano di dimensioni molto più ridotti. Adesso invece fanno tutto di dimensioni molto grandi. E la nostra abitudine, purtroppo, male, è quella di mangiare troppo in fretta. Quindi puoi essere buscati a lavoro e non c'è tempo per la sua maniera, quindi stiamo gabbando la tua comida. Infatti, quando si è al lavoro non si ha tempo, e quindi, di conseguenza, per cercare di sfruttare il tempo, si mangia molto velocemente. Ma oggi, nella famiglia, vedo questo scenario. La madre potrebbe preparare le cibo, e i figli siedono là con il suo padre, e giocando il loro computer e i loro telefoni. Sì, vedo nelle famiglie, per esempio, che le mamme preparano il cibo per i figli, i figli si sedono, sono seduti a tavola, e a fianco i computer. Non sono concentrati su quello che stanno mangiando, ma sono concentrati su altre cose. Quindi, la prossima volta, ogni famiglia in Italia deve fare una regola, il tempo di mangiare off il computer e il telefono. Quindi, bisognerebbe dire, da oggi in poi, niente computer a tavola. Vedo che ci sono diverse madri qui, e quindi la mia domanda è, siete voi che preparate il cibo per la vostra famiglia? Qui sono state fatte ricerche per diverso tempo. Una delle cose essenziali che devi fare qui è l'esercizio di giornata e il controllo del peso. Bisogna farlo tutti i giorni. Posso sapere quanti di voi esercizio ogni giorno? Lasciate le mani. Chi lo fa tutti i giorni, alzi la mano. Sei sincero? Oh, congratulazioni. Ok. Ora, potete seguire il charte di alimentazione qui. Stanno prendendo la cibo di alimentazione, il buon olio. Cioè, lì sono i carni idrati, quindi... Lots of vegetables and fruits. Poi ci sono le verdure, frutta. And then some nuts and legumes. Poi i legumi. You're taking moderately your fish, your white meat. Poi pesce, carni bianche, uova. And taking your milk. Cioè, formaggi o eventualmente... And a small amount of red meat and white bread and white pasta. Poi pane e pasta. Cioè, quelli dovrebbero essere le quantità... If you are following 100%, still you cannot get all the nutrients. So, you can see, you need to take... They advise you to take multivitamins every day. Cioè, dovete praticamente prendere delle vitamine... Cioè, prendete vitamine molte volte... Molte volte al giorno. And the nutrients can be lost through cooking. And of course, they ask you to take alcohol... For improving blood circulation. And of course, if you take alcohol in long term... It can affect your liver. Se continuate con quantità non moderate di alcol... Poi ne va del vostro fegato. So, can you be healthy because you lack of micronutrients? Look at this in due to soy depletion... Cioè, la soia. And then... In the 1950s... If you get one bowl of spinach... You can get all your iron for the day. Cioè, nel 1950... Con un piatto di... Una scodella di spinaci... Avevate praticamente... Il ferro a sufficienza. But today you need to take 70 bowls. Adesso, nel 99, invece... Avete bisogno di 70 scodelle di spinaci... Per avere lo stesso montare di ferro. Because today... All the food crops... Is cultured... With commercial fertilizers... And pesticides. Perché oggi... We are cultured in the crops... And they use a lot of pesticides... And commercial fertilizer. No, I didn't understand what... You know, when we... When we grow the... For example, the fruits and vegetables... They spray the pesticides... And they want to make the plant grow... So, they put a lot of... Artificial fertilizer. Nelle coltivazioni... Nelle coltivazioni vengono utilizzati... Molti pesticidi. So, you are lack of nutrients in the food. E quindi, ci sono meno fattori nutritivi... Dentro nel cibo. That's why we have problems... In our digestive system. E questo è praticamente... Quello che crea problemi... Poi anche nel... Nel nostro sistema digerente. Do you know... Your digestive system... Is very important? Che il... Il sistema digestivo è molto importante. Is the second brain in our body. Cioè, l'intestino... È dichiarato come il secondo cervello nel nostro corpo. If anything goes wrong with the digestive system... Se ci sono difficoltà nel sistema digestivo... And then we will have a lot of health problems. Allora, da lì praticamente nascono... Molti altri problemi. So, one of the common problem here... We should have a balance... Friendly and unfriendly flora in the gut. Questo è il bilanciamento buono... Dei batteri... All'interno del nostro intestino. Ma se si mangia troppo... E non si mastica bene... Si distrugge praticamente... Il bilanciamento dei batteri... Dell'intestino. E quindi... Gas, cioè... Aria nell'intestino. Quindi l'intestino si gonfia. So, one of the common problem is... Helicobacter pylori. It's a type of... Un friendly bacteria that cause stomach cancer. Quindi... È una delle cause praticamente di formazione... Non digerendo bene... È una delle cause di formazione del cancro. And another problem... It will cause... Licky gut... Because the V-ly... It should be... Close together... To absorb nutrients. La flora intestinale deve essere molto vicina l'uno all'altro. Nel momento in cui si distanziano o diventano praticamente ancora più lontane... Comincia la sindrome appunto del... Due to the... Toxines and poor eating habits... Che... Toxines and poor eating habits... Quindi crea tossine... E... E difficoltà nella... Nella digestione... You can see the V-ly... It opens up. Quando si... Cioè... Si vede la distanza... Dei batteri, no? Dei... Then... It will give problem... Because the undigested food... Digested food go into the bloodstream. The undigested food... From the intestine... It will go into the bloodstream. Cioè... Quello che... Ingeriamo male... Come cibo... Va praticamente a distruggere... La flora intestinale. And the friendly bacteria... In the intestine... It can go into your bloodstream... And cause problem... Become unfriendly. E quindi praticamente... Si crea il problema... E diventa... Cioè... Mi crea complicazioni. That is one of the reason... Why we have a lot of... Autoimmune disease. Ecco perché... Non abbiamo praticamente... Difficoltà di... 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 Sistema immunitario. And this is a common problem... In... Not only in... Europe... But we also have in Malaysia... The celiac disease. Cioè... Abbiamo... Lo stesso problema... Cioè non è solo in Europa... Ma anche in Malaysia... Che abbiamo praticamente... Dei disturbi celiaci. The immune system... Destroy the... V-line... And flatten the V-line. Cioè... Gli organi intestinali... Che devono essere praticamente... A fungo... E innalzate... Si appiattiscono... And when the V-line is destroyed... The celiac disease... For that patient... Is unable to absorb nutrients... E quindi praticamente... A questo punto... Si è impossibilitati... Ad assumere... Le parti nutritive del cibo. And the patient... Will be... Mal... Have less nutrients... Because lack of nutrients... And the patient... And the patient... Comincia ad avere... Insufficienza... Di... Di prodotti nutritivi... And the patient... In up with more problems... Actually is due to... Mal nutrition... E quindi... Il tutto è dovuto... Praticamente... A una male... Una mala nutrizione... Another problem is... This... What do you call... Alcerative colitis... Cioè... Le colitis ulceranti... Due to the... Undigested... Animal protein... Which is acid... And it will erode... The mucosa... In the intestine... Che causa... Che causa... Praticamente... Colitis... Causa... Le... Le... And this is... Another problem... Diverticular disease... Diverticular... Cioè... Problemi diverticolari... Constipation... Constipazione... Crohn disease... Le... Disease... Del... 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 Retto... And... Colon polyps... Che crea... Praticamente... Polipi... And... Worst of all... E... Il... Colorectal cancer... E... Il... Is so common today... And all this... In fact... Can be prevented... Comunque... Questo... Si può prevenire... Now... The lifestyle today... Most of us... We are lack of exercise... Allora... Il male primario... È... La... Mancanza di esercizio... We're watching TV... We are... Doing our work... At the computer... Siamo sempre... O seduti... A vedere la televisione... O al computer... And because of convenience... We have escalator... So nobody wants to exercise... Anche perché siamo mutati in tutto... Anche per non fare le scale... Ci sono... Le scale mobili... Ci sono... Tutti gli aiuti possibili... Per evitare... L'esercizio... Giornaliero... You know... Sometimes I'm busy... I have no time to exercise... You know... What do I do at home? I watch TV... I remove all my chest... And I put one cycle... Station cycle... In front of the TV... Watch TV... And... Do exercise... Quello che faccio a casa... Quando so... Di non avere praticamente... Molto tempo... Per potermi... Per poter fare esercizio... Intanto che sto guardando la televisione... Mi prendo la cyclette... Mi metto sulla cyclette... E così... Faccio... Intanto che guardo la televisione... Faccio esercizio... So... Today onwards... All the... The leaders in Milan... Must remove their chairs... In their sitting room... Quindi... Dobbiamo... Watching TV without chairs... Seguire l'esempio... Ok... Another silent killer is stress... L'altro problema... E' lo stress... Why stress is... Why stress can kill you... Perché lo stress... Ci uccide... Perché siamo stressati... In continuazione... Perdiamo le vitamine del gruppo B... E quando si perdono le vitamine del gruppo B... Cioè... Causa un sacco di problemi... Che sono... Sbilanciamento degli ormoni... E il sistema immunitario... E quindi... Il corpo diventa acidico... E quindi arriviamo... Ad essere ansiosi... Irritabili... Cioè... Stanchi... E senza... Senza... Senza riposo... Senza possibilità di... And this always happens to... Not only the working people... We don't neglect... Our school going children... Cioè... Questo non succede solo... Ai lavoratori... Ma succede anche... Ai bambini... Che... Agli scolari... Quindi... Tutte le volte... Che i vostri figli... Escono per andare a scuola... E di dargli... Sempre... Dei prodotti... Che contengono... Molta vitamina B... Non solamente... La quantità... Che serve per il giorno... You help them to... Focus... They can focus... In the school... And do... Their study... And they will... Study better... In modo che possano... Anche... Essere più attenti... A scuola... E seguire meglio... And... Another problem today... Is lack of sleep... L'altro problema... È la mancanza di... Di riposo... We know... All of us... We need about... Six to eight hours of sleep... Tutti sappiamo... Di aver bisogno... Almeno di... Sei oto ore di... Sonno al giorno... You may say... Yes... I have enough sleep... Because... I sleep six to eight hours... Cioè... We have... The friend may say... I have enough sleep... Because I sleep six to eight hours... Ah ecco... Cioè... Noi diciamo... Ne abbiamo sufficienza... Cioè... Abbiamo... Abbiamo riposato sufficienza... Perché abbiamo dormito... Sei oto ore... But don't forget... We have... Our body... Biological clock... Ma il nostro... Orologio biologico... He will sleep at the wrong time... Noi dormiamo... Nel momento peggiore... Nel momento sbagliato... Your organs may not be able... To repair in time... E quindi... Il corpo non riesce... Praticamente... A recuperare in modo... Give example... Liver... Liver... Quelli che... Cioè... Le parti del corpo che ne soffrono... Sono per esempio... Il fegato... If you go to bed... At 12 o'clock... And then you have a supper... You have a shower... By the time you go to bed... You may not be able to sleep on time... And your liver... Will miss the repair time... Quindi praticamente... Se... Si prende tempo... Per arrivare... Fare la doccia... E così via... Prima di andare a dormire... Si va... Troppo tardi... E... In quel caso... Il fegato... Ha perso... Praticamente... Il... Il tempo di... Di riaggiustamento... My usual practice... 10.30... I will switch off my computer... I will switch off my phone... And then... I will go to bed... Quindi... Lei ha una... Una ferma... Pratica... Che è quella... Che quando sono le 10... Spegne tutto... E va a dormire... Then I will get up... Six o'clock in the morning... Si alza le sei del mattino... I will start my exercise... E comincia a... Fare dell'esercizio... Fisico... And I have been doing it... For many years... And I find that... With DSM products... And I am healthy... E lo faccio da diverso tempo... E continuo a farlo... E mi sento bene... So another problem is... We lack of drinking water... Cioè... Un altro problema è... Manchiamo di... Di assunzione di acqua... When I say water... Is clear water... Cioè... Quando si dice... Acqua è... Acqua pura... Non carbonated drinks... Non... Non con aggiunta di... Di carbonato... O di... Come sapere... Che si beve... Sufficientemente acqua... You may be drinking... Eight glasses of water... Potete anche bere... Per esempio... Otto bicchieri di... Di acqua giorno... Nel caso di... Estate... Per esempio... Con tempo... Con temperatura alta... E si perdono... Praticamente... I benefici dell'acqua... Perché si suda... And when you go to toilet... You look at your urination... If the color... Is yellow... That means... You don't drink enough water... Cioè... Se... Guardatevi... Se avete preso... Una colorazione gialla... O giallastra... E perché... Vi manca acqua... How many of you... Go to the toilet... And observe the color of your urine... Cioè... Chi di voi... Va... Quando va in... In bagno... Guarda... All'urina che sta... Praticamente... Facendo... Il colore dell'urina... Congratulazione... C'è una donna... Che sta osservando... Il colore dell'urina... Quindi... Se il colore dell'urina... È pale... E chiaro... Significa... Che si bella... Che si bella... Cioè... Cioè... Se il colore dell'urina... È... Leggermente chiaro... E perché va bene... Cioè... Si sta assumendo... Quantità di acqua a sufficienza... Nel caso contrario... Bisogna bere molto di più acqua... È molto importante l'acqua... Perché il nostro corpo... È fatto per il 70% di acqua... L'acqua... È trasportatrice... Di... Di parti salutari... Dentro nel nostro corpo... E rimuove... Le tossine... Quindi... Vedi... Il nostro corpo... Il pH... È molto importante... Se il tuo corpo... È acido... È causato problemi... Cioè... Il pH del nostro corpo... È molto importante... Se il nostro corpo... È praticamente... È un pH... Molto acido... Ci sono problemi... Cioè... Il pH del corpo... Per essere buono... Dovrebbe essere... Dal 7 all'8... Perché il corpo è... Leggermente alcalino... In natura... E quindi... Il risultato del processo metabolico... È acidico... Anche perché... Quello che facciamo... È... Di ingerire... Cibo... Che è... Acidico... E oltretutto... Anche... Sotto stress... Non saremo mai... In grado di mantenere... Questo pH... Naturale... Che ci serve... Per essere... In buona salute... La circolazione sanguigna... È molto importante... La circolazione sanguigna... È molto importante... Perché trasporta... Ossigeno... Nutrition... E immunità... In ogni parte del corpo... Perché trasporta... Ossigeno... Parti nutritive... E cellule immuni... Nelle varie parti del corpo... E ovviamente... Il sangue... Anche anche... E poi oltretutto... Il sangue... Porta via... Praticamente... I rifiuti del corpo... E le tossine... Un sangue con il pH giusto... Dovrebbe essere così... Dovrebbe avere questa... Conformazione... Nel caso di assunzione... Di cibo acidico... Le cellule del sangue... Si trasformano... E diventano... E quindi a lungo andare... Produce poi... Difficoltà... Per occlusioni... Delle vene... O delle arterie... Quindi... Produzione di colesterolo... Alto... E altri... E altri... Tutti sanno... Che il cuore... È l'organo... Principale... Più importante... Del nostro corpo... Il nostro cuore... È il più importante... Organo... Nel nostro corpo... Perché il cuore... È una valvola... Che continua a funzionare... E batte... Tutto il giorno... Tutti i giorni... Quindi... Se avete una buona... Circulazione... Puoi mantenere... Il tuo... Certo... De 60... A 70... Bits... Per minuto... Cioè... Un cuore... Un cuore... In salute... Ha un battito cardiaco... Di circa 60... 70 battiti... Per minuto... Cioè... Un uomo... Un uomo in salute... Ha un... 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 Regolare... Con un regolare... Battito cardiaco... Può avere... Fino a 2.9 milioni... Di battiti... Di battiti... Durante il corso... Di tutta la sua vita... E in questo caso... Almeno possiamo vivere... Fino a 80... 90 anni... Ma... In quel caso... Non saremo mai... In grado... Di poter vivere... Fino a... Un'età... Diciamo... Di 80... 90 anni... Ma ci accorciamo... La possibilità... Della durata di vita... Quella è una cellula... Del sangue... Del sangue sana... È come... Un acquario... Il tuo acquario... Il tuo acquario è chiaro... Il tuo cuore è felice... Ma se il sangue... Ma se il sangue... Diventa acido... E... E... Denso... È come... È come... Praticamente... Mettere dentro... Delle porcherie... Dentro nell'acqua... E quindi... Di conseguenza... Creare... Un ambiente... Non salutare... Per... Per i pesci... Non possono sopravvivere... Non possono sopravvivere... Nello stesso nostro... Nello stesso nostro corpo... In questo caso... Le cellule muoiono... Con cellule... Che non sono sane... Si può volere... Anche dai 10 ai 15 anni... Per svilupparsi un cancro... Se ci sono... Poi oltretutto... Anche nei reni... Se ci sono difficoltà... Può produrre... Cioè... Il fatto di non scaricare... Urina sana... Può praticamente... Creare dei problemi... Di circolazione... Anche gli altri organi... Come... Per esempio... Il pancreas... E un altro... Che se... Non funziona bene... Ok... Now... I want to show... One example... Questo è un esempio... Vi faccio vedere questa foto... Perché vi voglio insegnare... Vi faccio vedere questa foto... Perché vi voglio insegnare... Questo signore qui ha avuto... Pressione sanguigna alta... E di diabete per molto tempo... E ha cominciato... Praticamente ad avere problemi... Perché la creatinina... È molto alta... E ha cominciato... Praticamente ad avere problemi... Anche di reni... Perché la creatinina... Era molto alta... Il suo amico... Mi ha chiesto di andare a vederlo... In casa sua... Quando ho guardato la ferita... Il medico non era in grado di chiarirgli... Perché aveva questa ferita... Quando la ferita si apre... Può provocare poi anche... Dolori e sangue... E quando guardate la ferita... Il tessuto è bianco in color... Significa che non c'è la circolazione sanguigna... Cioè... Si vede che la circolazione sanguigna... È proprio ridotta male... Quindi ho detto ai miei membri... Questo è causa della bloccazione della circolazione... E anche del sistema linfatico... Quindi gli ho detto alla famiglia... Guardate che qui... La causa è il blocco... Del sistema linfatico... E della circolazione... Gli ho raccomandato alcuni prodotti della DXN... Però non mi hanno creduto... Hanno rifiutato per il fatto... Di una loro convinzione religiosa... Dopo alcuni mesi... È morto... Perché? Voglio guardare... Voglio guardare questa immagine... Quando ci sono blocchi... Quando ci sono blocchi... Non può essere solo lì... La ragione... Può essere... E non solo lì... Può essere... In tutte le parti del corpo... Quindi quando guardiamo... Ai problemi di salute... Dobbiamo tenere in considerazione... Che il corpo... È una cosa sola... Quindi guardate questo... La maggior parte... Il 90% delle persone... Che sono in stato di pre-allarme... Cioè di possibile malattia... Non hanno alcun sintomo... You and I may look healthy... Cioè... Possiamo... Possiamo mostrarci... Un po' anche... In salute... Ma abbiamo... Un sacco di... Di malattia all'interno... Cioè di... Di difficoltà... Di problemi... Dobbiamo praticamente... Tenerci ben curati... Ogni giorno... Per poter essere sempre... In buona salute... L'unica soluzione... È il ganoderma... L'unica soluzione... È il ganoderma... I want to ask you... A question... Officially Paula... You have given... Ganoderma... To people... Do they complain... After I take ganoderma... I have a lot of problem... I pain here... Pain there... Yes? Yes... Because ganoderma... Is a scanner... Because ganoderma... Is a scanner... You can scan your problem... È un... È uno scanner... Cioè... Vede... Vede... When you take ganoderma... You are here... Or you say... You have problem there... So you might continue taking... Then there is no symptom... Then you're well... Cioè il ganoderma è una cosa che... Una volta che ha scannerizzato il tuo male... Arriba praticamente a portarti in salute... Poi dopo... È finito... Cioè non devi più utilizzare il... Do not be afraid of symptoms... Non... Non siate... Non siate preoccupati per... Per i sintomi... In medical science... They use medication... To bring down your symptoms... Cioè... The ganoderma... No... The medication... The medication... Cioè i medicamenti... Ti abbassano praticamente... I sintomi di... 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 Di malattia... Ad esempio... You have pain in the head... You take... A pain killer... To suppress the pain... Cioè quando hai praticamente dolori... Prendi pillole... Per... Per... Terminare... Per... Curare il... Il dolore... The pain is gone... E il dolore se ne va... But the problem could be there... It's not soft yet... Ma il problema... Non è soluzionato... Non è soluzionato... Rimane... But... Where else... Ganoderma è different... Mentre invece... Con il ganoderma... È sicuro... You take the ganoderma... Then you have symptoms surface... Actually... They are treating... Your problem area... Con il ganoderma... I sintomi... Vengono praticamente... Portati a conoscenza e... And... And after some time... No symptoms... Meaning you're healthy... And... No... When... The symptoms... Yes... When you take the ganoderma... If you have a problem there... The symptoms will come out... Quindi... Quando prendi il ganoderma... Se hai un problema qui... I sintomi... Ti vengono... Vengono portati al punto... Dove tu hai il male... And you continue taking... E continui a prenderlo... When the symptom is gone... Quando i sintomi se ne sono andati... And then congratulations... You're healthy... E quindi a quel punto... Sei ritornato di nuovo in salute... There is a basic principle... We need to understand... Questo è un... Now... What is... DXN... Wellness products... Role in our health... Qual è il ruolo del... Del ganoderma... Nella nostra... La DXN... Nella nostra salute... Ok... Now... Just now I say... Most of us... Our blood is this condition... Acidic... Cioè questi... La maggior parte di questi prodotti... Bilanciano il pH... Del nostro corpo... If you take RGGL... A lot of symptoms... If you take... The Gado Dharma... You have a lot of symptoms... So... Se si prendono... Si prende il ganoderma... E si hanno diversi sintomi... Meaning... Our blood is like this... When our blood is like this condition... You take Gado Dharma... You may have a lot of symptoms... Because you have a lot of blockage... Cioè... Se si prende il ganoderma... In condizioni... Che magari... Senza sintomi... Ti... Porta a conoscenza... Dei sintomi... Che tu... Non hai sentito... E quindi... Hai praticamente... Delle... Difficoltà nel tuo corpo... Che non erano... Non ti erano... Arrivati a conoscenza... So the best products... To balance... The pH... Is Cordypine... And Morinzi... I prodotti migliori... Per... Questo sono... Il Cordypine... E il Morinzi... Give an example... People with... High blood pressure... People with high blood pressure... Is high blood pressure a disease? No! Cioè... Non ha... Non ha... Non ha... Non ha dei particolari sintomi... Chi ha la... La pressione arteriosa... It's because the blood is sticky... Blood is sticky... So we give them something... To balance this thickness in the blood... Cioè... And Cordypine... And Morinzi... They are the best product... Con questi prodotti... La densità del sangue... Viene abbassata... E quindi di conseguenza... Si hanno... Benefici... Perché si abbassa il colesterolo... E quindi... Anche la... La pressione arteriosa... Si abbassa... And don't forget... Spirulina... Is a very good... Blood cleanser... It can clean your blood... Cioè... La spirulina invece... È un... È un buon... Pulitore del... Del sangue... So... If people with... High cholesterol... Or... High triglyceride... Then you take lots of spirulina... To clean the blood... Nel caso di... Pressione arteriosa alta... Somministrando... Spirulina... Prendendo spirulina... Abbassi... La pressione arteriosa... People with diabetes... High... High sugar in the blood... Quelli... I diabetes... Che hanno... Sangue... Che hanno... Il sangue... Con... Contenuto... Molto... Molto alto... Di... Di zuccheri... And it's a wonderful product... But of course... Not only the sick people... What about the healthy people... In home... When you eat... A lot of... Acidic food... Like... For example... A piece of steak... Or pasta... Then we should... Serve our family... With Cordipine... And Morinzi... At our dining table... Cioè ti aiuta anche a digerire... Nel momento in cui tu assumi... Dei cibi acidici... Che... Hai magari difficoltà a digerire... Con il Cordipine... O il Morinzi... Ti aiuta... Aiuta anche la digestione... So... Another problem is... When your body is acidic... Your blood circulation... Will be blocked... Cioè quando ci sono... Ostruzioni... Delle... Delle vene... Per la circolazione del sangue... In questo caso... Il problema principale... È che le vostre... Le cellule... Diventano praticamente... Prive di ossigeno... Manca ossigeno... Nelle cellule... E non si possono... Cioè non è possibile... Togliere le tossine... Delle cellule... Delle cellule... And don't forget... Our body... Have a team of... Immune cells... Protect you from cancer... Cioè... Nel nostro corpo... Abbiamo delle cellule... Immunitarie... Che ci proteggono... Dal cancro... And if this is blocked... The immune cells cannot go through... The other side of the blockage... Can develop cancer... Nel caso in cui... Ci sono delle otturazioni... Di quel tipo... Le... Il sistema immunitario... Non riesce praticamente... A penetrare... Quindi... A togliere le tossine... E... Si è più... Esposti... Alla possibilità di cancro... I remember... Many years ago... When my daughter... Was a little girl... Mi ricordo... Alcuni anni fa... Quando mia figlia... Era piccola... When I started... To give her... Gadoderma... DSN Gadoderma... Quando ho iniziato... A somministrargli... Il ganoderma... One day... She came back... From school... You know... Her uniform... Is white in color... You know... Her uniform... Was white in color... Thank you... And she came back... The uniform... Turned pink... Pink color... Because she was sweating... Cioè... Andata... Andata... Andata a scuola... Quando è andata a scuola... Aveva... L'indumento bianco... E quando è ritornata... È diventato rosa... And I went to school... To check... What she was taking... E sono andata a scuola... Per verificare... Quale fosse la ragione... She was drinking... A lot of colorful beverage... And colorful sweets... Cioè... Beveva... Beveva... Molti... Bevande... Tipo... Quelle che ci sono... Che contengono... Molto... Molti zuccheri... If she did not take... Gadoderma... Can you imagine... The toxin... Can get stuck... In the cells... And cause problems... Potete immaginarvi... Le toxine... Che si sarebbero... Immagazzinate nel sangue... Se lei non avesse preso... Il ganoderma... You may be sweating... After exercise... You and I... May be sweating... After exercise... We have sweats... But... How much toxin... Can be removed... From your sweat... You do not know... Possiamo... Possiamo... Fare esercizio fisico... E sudare... E quindi... Tirare fuori le tossine... Ma quante ne togliamo... Non lo sappiamo... But after taking... Gadoderma... You are rest assured... The toxin... Is being removed... From the cells... Cioè... Ma con il ganoderma... Siete sicuri... Che le tossine... Sono tolte dalle cellule... If you have a house... You clean your house... Every day... Nel caso vostro... Avete una casa... La pulite tutti i giorni... Then you house... Your house is clean... E quindi... La vostra casa è pulita... At your age... And my age... Do you clean your body? Alla mia... Alla sua età... Alla sua età... Noi... Ci prendiamo cura... Di pulire il nostro corpo... If you don't clean your body... 10 years... 20 years... 30 years... Surely we have problem... In the cells... And organs... Cioè se non teniamo... Praticamente pulito... Il nostro corpo... E lo... E lo nutriamo... In modo giusto... In 20 anni... 30 anni... Arriviamo praticamente... Ad avere problemi... Di salute... The next important function... Of the DSM products... Is to increase... Your immune system... Cioè di migliorare... Il sistema immunitario... We know... Immune system... Is very important... Especially for us... To fight infection... Like virus... Cioè... L'importante... Essere in grado... Di combattere... I virus... Che ci sono... You see... From the history... Of the... Influenza... L'influenza... Per esempio... We have H1N1... And swine flu... Cioè... Ogni anno... C'è un tipo di... Influenza... We do not know... What is next... Non sappiamo neanche... Quale sarà il prossimo... The only way to protect... Ourself... And our loved ones... At home... Is to make sure... They have optimum... Immune system... At all times... Cioè... Quello che è... Il nostro compito... Sia per noi... Che per i nostri... Familiari... È quello di... Tenere praticamente... Sempre sotto controllo... Il sistema immunitario... E tenerlo... Sempre in... In modo... Ottimale... If you are eating wrong food... Every day... Se mangiate... Se si ingerisce... Cibo... Non corretto... Ogni giorno... You are not feeding... Your immune system... Non hai... Non... Non aiutate il sistema immunitario... How are you going to have... A strong immune system... Come potete avere... Un sistema immunitario... Ottimale... And the next thing is... If you have a poor immune system... We are at real... E se non c'è un sistema immunitario ottimale... Siamo praticamente esposti... Alla possibilità di cancro... And these... For example... Three capsules... Or six capsules... A day... When you are healthy... Se si ingeriscono... Tre o sei pillole... Al giorno... Quando si è... In salute... But you have... If you have a virus infection... Virus... Then you don't count your GL... You just... Take your GL... Maybe... You take ten capsules... Every hour... You can take 30 capsules... 40 capsules... Is no problem... Prendendo... Prendendo anche... Quantità di... Di capsule di GL... Durante il giorno... Non hai... Non hai problemi... Nel corso del mio operato... Di 12 anni... Gli somministro... Gli ordino praticamente... Del GL... In quantità di sei... Capsule al giorno... And 30 to 60... Lion mains... Same thing as... 60 to... 30 to 60 spirulina... 62 di spirulina... E... How many of... Lion's main? 30 to 60... Dai 30 ai 60... Yeah... Same thing with spirulina... And this is daily... And these patients... They can go through... Chemotherapy... Without problems... E... Con dare avanti... Senza problemi... Yeah... So the next important function... Of... DSM product is... It can increase... The oxygen level... In the body... Il prossimo problema... È quello di... Aumentare... Il livello di ossigenazione... Dentro del nostro corpo... Now... We know very well... If your body is acidic... Your body... The blood is sticky... Then you lack oxygen... In the body... Cioè... Se abbiamo praticamente... Un sangue denso... Abbiamo praticamente... Mancanza di ossigeno... Dentro del nostro corpo... When you lack oxygen... This is the environment... For cancer... Con... Insufficienza di... Di... Di ossigeno... Si è praticamente predisposti... Per... So you have to maintain... High oxygen level... At all times... Dobbiamo quindi... Mantenere... Una... Quantità di ossigenazione... Nel nostro corpo... Alta... And the... Oxygen... Officially... Polysaccharide products... GL... Cordyceps... And linesmen... All these are... Polysaccharide products... Sono dei prodotti... Che... Che producono... Poly... Polysaccharide... Che... Che... Danno delle... What is polysaccharide... They are... Long chain of sugar... Long chain of sugar... Of sugar... Yes... And it contains... A lot of... Oxygen segment... Inside the polysaccharides... Cioè dentro... Nei polysaccharides... Ci sono... Diverse... Cellule di ossigeno... Che vengono portate... Dentro nel nostro corpo... So when you take... These products... There will be... A chemistry reaction... In your body... And oxygen... Will be released... To our cellular level... Cioè... C'è... C'è una reazione... Nel nostro corpo... Che produce... Ossigeno... E le porta... Alle cellule... So these are the products... Very good for problems... Like heart problems... Quindi questi sono i prodotti... Ottimali... Per problemi di cuore... Stroke problems... Per problemi di ictus... Anche problemi di pulmoni... Anche problemi di pulmoni... Is... We are able... To have... Increase our... Stress resistance... L'altro problema... È quello di... Aumentare la nostra... Resistenza allo stress... Ok... So... The RG... And... Morinzi... E Spruna... Is able... To stable... Our emotion... E questi tre prodotti... Sono in grado... Di stabilizzare... La nostra emotività... So... You have less stress... Quindi... Menos stress... E push ladies... Morinzi... It will give you... Happy hormones... Cioè... Il Morinzi... È uno... Una... Una cosa... Che... Produce... Eh... Produce... Contentezza... Cioè... Che da... Da felicità... Actually... All of us... Can produce... Happy hormones... Naturally... E quindi... Tutti questi... Possono produrre... Degli... Degli ormoni... Sani... How do you do it? E come fare? We should... Have... Laughing... Exercise... Ha 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 ha... Every day... In the house... Dobbiamo... Dobbiamo... Continuare... A ridere... Per... Then you're able... To produce... Happy hormones... If you don't... Then you drink... Marenzi... Cioè... Se non siamo in grado... Di continuare... A mantenere... Il nostro... Corpo... In... In modo... Da essere sempre felice... Dobbiamo... Necessariamente... You can see... All the XN products... Is not... To treat disease... Not to treat disease... I prodotti... Della... 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 DXN... Non sono... Per trattare... Le malattie... Is doing the balancing... È per bilanciare... Cioè... Per bilanciare... La funzione... Delle cellule... Tissue... Functions... Per... Tenere il... Il tessuto... In condizioni ottimali... Organs... Per tutti gli organi... Cioè... Il... Stomaco... Intestino... Quando... Tutto il sistema... È bilanciato... Tutto il sistema... È bilanciato... Siamo... Praticamente... Nelle condizioni ottimali... Siamo... Per... Avere... Un corpo... In salute... If you look at... Human... History... Human... Guardando... Guardando... Nel... Nel corso... Della... Della vita dell'uomo... But... In those ancient times... The people... Don't have antibiotics... Cioè... Nel... Nel corso... Degli anni... I vecchi... Non avevano... Uh... They didn't have... No... No... Our great grandparents time... The ancient time... No antibiotics... That time... Cioè... Non avevano... Uh... Antibiotics... Ah... Antibiotics... Yeah... But people... Can survive... Through illness... Potevano comunque... Sopravvivere... Because... They... That time... Their food... Was healthy... Perché... Mangiavano... Un cibo... Più salutare... But today... We are killing... Our body... With our food... Ma... Il giorno d'oggi... Con il cibo... Che ingeriamo... And it's killing... Our self... Healing... Abilities... E togliamo... Praticamente... La... La capacità... Le nostre cellule... Di essere sane... So we have to work hard... To balance back... Our healing... Abilities... Dobbiamo... Dobbiamo quindi... Darci da fare... Per bilanciare... La nostra... Thank you very much... For this session... And then... The tea break... Is 15 minutes... Then we'll come back... So thank you for your attention... Grazie mille... Grazie mille... Per la vostra attenzione... We can go for tea... We can go for tea... La prevenzione inizia dal momento in cui il bambino è all'interno del corpo della madre. Quando la madre è inattesa, potrebbe assumere molte tossine. Non solo se la mamma ha un tipo di lavoro sedentario come davanti al computer. Anche all'interno della casa ci sono diversi mezzi elettrici. E le radiazioni possono praticamente influire sullo stato del bambino, del peto. Se la mamma non assume i prodotti per aiutarsi, per difendersi. La madre potrebbe avere dei virus che possono poi riprodursi nel peto, nel bambino. E uno dei virus che cause deformity, deformity in the congenital hole in the heart. Hole in the heart, yes. It's caused by virus infection. Il vomito. Dei fori nel cuore del bambino. Tutto questo può essere prevenuto. Si sente per esempio che bambini che hanno un cancro o bambini che hanno leucemia. E tutto questo può essere prevenuto durante la maternità, durante il periodo di... Cosa dare alla madre durante il periodo di attesa? Cosa dare alla madre durante il periodo di attesa? Cosa dare alla madre durante il periodo di attesa? In primo luogo il ganoderma è sicuro per la madre in attesa. Le bambini e bambine. Cioè lei era specializzata nella cura materna. E faceva assumere alle madri in attesa del ganoderma. e sappiamo che è sicuro sia per la madre che per il bambino ci sono diverse prove che il Ganoderma è essenziale per il buono stato della madre può assumere l'RG e il GL per assicurarsi che vengano praticamente eliminate le tossine prima che le tossine arrivino praticamente a lei e inoltre aiutano praticamente la circolazione sanguigna nel corpo della madre quindi una buona circolazione sanguigna nella madre e quindi anche nel bambino le parti nutritive vengono praticamente passate dalla madre al bambino e anche l'ossigenazione quindi il bambino nascerà sicuramente sano durante la maternità non dimenticare che la spirulina è il prodotto migliore qual è il dosaggio per una madre in attesa nel caso di una madre che si sente bene 6 RG e 6 GL daily daily yes quotidianamente e poi ovviamente di spirulina potete prendere 10 tablette all'amore e 10 tablette all'avventura di spirulina prendere 10 capsule al mattino e 10 alla sera quindi questo è praticamente la quantità sufficiente per portare beneficio sia alla madre che al bambino e la spirulina non dimenticare e la spirulina non dimenticare che è contro praticamente il vomito e quindi protegge di conseguenza anche il bambino all'interno prevenzione per la madre di anemia una madre anemica può creare problemi nel momento della maternità nel momento in cui dà il mondo il bambino quindi nel momento in cui la madre è in attesa ed è anemica prendendo 40 capsule di spirulina non c'è problema nel momento in cui la madre è nella trentasettesima o trentottesima settimana cioè si può aumentare la quantità di GL per esempio 20 capsule e quindi sappiamo oltretutto che GL è un fornitore di ossigeno cioè produce ossigenazione e quindi questa buona ossigenazione la passa chiaramente anche perché il GL è importante prima del parto nel caso di una madre che ha problemi per il momento del parto e viene ritardato se la madre ha un sacco di ossigeno e il bambino è ritardato nell'uscire you are going to prevent hypoxia 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 is the brain lack of oxygen hypoxia ok so you protect your child and you will have a healthy baby quindi viene protetto il bambino e esce sano so therefore and then don't forget when after delivery dopo la nascita dopo il parto the mother has a wound inside the uterus you need healing cioè ha bisogno di ok so you need all these for wound healing cordipine quindi assunzione di cordipine 2 volte al giorno and then of course you have RGGL 6 pairs daily 6 DRG EGL giornalmente and they have spirulina 10 tablet 3-4 times daily e spirulina 10 tablet 3-4 volte al giorno so maybe during your 30 days to 40 days of confinement period confinement after delivery cioè il tempo dopo il parto dei 40 giorni e aiuta la prevenzione del postparto e of course the best food for the baby is mother's milk the best is mother's milk mother's milk is the best food ok because the mother's milk is a complete food and it has natural antibodies so you make sure your baby has immunity for those mothers who cannot breastfeed the babies then you start the GL early in babyhood ok so you can for example if the baby is two months old you can put half a capsule or one capsule in the baby's milk to enhance the milk system and we know very well GL is a very good brain is a very good brain tonic and the early you start with GL you find that your child is more intelligent and for my 12 years practice I have seen babies they are taking GL at young age and when they are 12 years old I can see they are quite intelligent iniziando da quando sono piccoli quando arrivano all'età di 10-12 anni si vede che sono intelligenti sono più intelligenti of course when you give GL you also repair any defective DNA caused by a cause in the uterus before delivery aiuto oltretutto a togliere qualsiasi difetto nel DNA causato dal nel momento in cui era all'interno dell'utero un altro gruppo di bambini che è praticamente nell'età più avanzata you know this group of children when you send them to maybe the what do you call the child care center you know you have child care center in Italy child child care your mother go to work you send your child to child care yes ah to asilo nido si ok you know when they are in the child care center they play together and of course if this child get infection you spread to this one and all our children have infection in the child care center so si giocano insieme e quindi di conseguenza c'è il passaggio praticamente di virus da uno all'altro. E quindi questo gruppo di bambini ha bisogno di assumere il GL su base giornaliera. Da due a quattro capsule al giorno per migliorare il sistema immunitario e ovviamente migliorare le funzioni del cervello. Nel caso in cui la madre durante la sua maternità non ha avuto l'opportunità di prendere il Ganoderma. Cioè perché nel caso di qualsiasi difetto delle cellule il Ganoderma riesce a rimetterle in ordine. Cioè assumono qualsiasi cosa tutto quello che a loro piace. e quindi si può dargli della spirulina da tre a sei tavolette al giorno perché contiene un largo quantitativo di parti nutritive per lo sviluppo del bambino. è buono anche per i bambini con l'età. Perché il Lion's Man contiene le parti nutrizionali giuste per il sistema immunitario per il sistema nervoso e oltretutto serve per lo sviluppo del cervello. Cioè i bambini che vanno all'elementare le scuole materne o elementari e assumono magari o prendono del cibo che non è sano. E quindi produce tossine e quindi con il sistema immunitario deficitario c'è la possibilità di assunzione di virus. Quella è la mia figlia alla scuola e l'uniforme scolastica è bianca. E le tossine sono colorato e con l'assunzione del ganoderma toglie le tossine e quindi l'uniforme ritorna nuovamente bianca. questo è quello che molte volte prendono i bambini quando sono a scuola. Cosa gli si può dare? Quindi i bambini in scuola se iniziano a prendere molti toxini puoi dare l'alzi 1-2 capsules ogni giorno. Si può dargli del regio 1-2 capsules al giorno o 4-6 capsule di GL per aumentare il sistema immunitario e per le funzioni del cervello specialmente durante gli esami. e la spirulina per avere una quantità sufficiente di parti nutritive sia per la funzione fisica che lo sviluppo mentale. Quindi questo è il momento in cui si può dare alcuni enzimi come codipine o morinzi per balanare il pH giornalmente di 20 ml per bilanciare il pH qui siamo già praticamente all'elementare fase avanzata perché i bambini a scuola sono praticamente stressati sono continuamente sotto stress. Quando si è sotto stress può affrontare come ho detto la complessione del vitamin B complexe. They lost their vitamin B when they are under stress. When they sit. when the children in school study they are under stress. When they are stressful they lose their vitamin B they lose energy and then it will cause hormone imbalance cause hormone imbalance so that's why in this group of children they tend to have hormonal inducing problems like breast in questo caso perdono praticamente c'è un cambio ormonale ovaries ovarian ovary the ovary can have cyst in children ovary ah l'urina alle ovaie c'è so all this is caused by hormone imbalance come from stress e tutta roba che viene dallo stress and of course university students quindi anche qui c'è mancanza di riposo so this group of children they need the DSM products especially the RG and GL you have to take 6 RG 6DL daily and you can give them more in Z 30 ml daily and more in Z 30 ml daily and sprulina for these stress food children is very good you can give 10 to 20 tablets every day per lo stress 10-20 tabulette di spirulina giornalmente van bene number one spirulina give them complete nutrients la spirulina gli da le sostanze nutritive e la spirulina gli rimpiazza tutte le vitamine B che praticamente vengono distrutte dallo stress quindi i bambini sono praticamente nella condizione migliore per poter essere migliori in scuola e dare più risultati positivi e questo gruppo di adulti siamo in posizione adulta può essere 30 anni per esempio anche 40 80 io vedo questo gruppo di adulti che lavorano molto hard e questo tipo di di età è praticamente nel momento in cui si fa molta molta attività fisica lavorate perché vuoi ottenere più di per dare buone viste alla tua famiglia vuoi una grande casa una buona car e dare freddo alla tua famiglia quindi si lavora molto si cerca di fare di tutto per portare praticamente del beneficio alla famiglia ma ho visto tantissimi gruppi di persone che lavorano hard ma prima che possono ottenere il pieno per supportare la famiglia sono sick e la maggiori hanno cancero a 35 40 45 conosco molti che prima ancora di riuscire ad arrivare a lavorare sodo e riuscire a portare praticamente del beneficio alla famiglia arrivano praticamente ad essere malati sono a 35 anni gente che ha cancro e a questo punto i soldi vengono praticamente spesi per andare in ospedale a curarsi e quindi è molto importante per questa età l'assunzione di giornaliere di questi prodotti c'è sempre con morinzio e morinzio 30 millilitri due volte al giorno 6 rg 6 dl giornalmente e anche la spirulina 20 tavolette al giorno per la prevenzione ma molti mi chiedono questa domanda non posso comprare tutto questo ma molti mi dicono non riesco non posso non ho la possibilità finanziaria per poter comprare questo quando vuoi mantenere la salute devi anche essere in grado di investire o capire che devi investire comunque poi ci sono quelli che spendono soldi per farsi l'assicurazione nel caso di problemi ma se ti vuoi assicurare la salute puoi spendere degli euro per proteggerti e se li spendi per mantenerti in salute li riguadagni poi successivamente in futuro c'è molta gente che ha il cancro in Europa e hanno bisogno di comprare molti prodotti per bilanciare non posso dargli gratuitamente quindi valutare la salute di oggi valutare ad amare yourself valutare 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 apprezzare valutare la salute quindi per esempio se qualcuno è malato nella famiglia quando c'è un malato nella famiglia anche gli altri membri sono praticamente tristi con questo tu hai il sistema per poter mantenere la felicità nella famiglia mi lavate i denti tutti i giorni invece di andare a prenderlo nel supermercato se comprivi 100 tipi dal supermercato per esempio in un anno comprivi 100 tipi quando prendi per esempio un pezzo o due pezzi ti fanno sconti al supermercato non ti danno niente ma se ti comprivi il buon pezzi con tutti i tuoi amici i tuoi vecchi ti fanno il pezzi l'accumulatore del pezzi è il money quindi eventualmente ti fanno il money per supportare la tua propria consumazione il dentifricio il dentifricio loro perché ha dei contenuti praticamente che quando hai un punto di valore ti fanno bonus comprando comprando un dentifricio di standard abbiamo dei bonus dei bonus oh ok sorry didn't know ok and then you have soap do you take bath shower shower yes so you use il bagno schiuma loro everyone is using it so you use all the household products shampoo body foam yes there are products which are so you don't buy all this from the supermarket but you you use the DXN supermarket invece invece di comprare il supermercato comprateli dalla DXN eventually you are earning free products to support yourself ok alla fin fine avete dei bonus of course for all people for all people elderly people we need this product especially ladies who already reach menopause they don't have period menopause they don't have menopause they already have no period menopause 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 ok so ladies with menopause you have a lot of problems you have heart problem circulation problem 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 di cuore problem di circolazione osteoporosis problem di osteoporosi and then they have more problems because maybe they have no dentures they don't chew properly have digestive problem cioè anche il sistema di masticazione è diverso quindi hanno problemi di digestione so these are the people they give them a lot of their products on the daily basis to prevent officially not blood vessels related problems per prevenire per curare la ok and all people the old people ok human age human age we are given 120 years so il tipo la lunghezza di vita che noi diamo è di 120 anni ma perché non riusciamo ad arrivare a quell'età perché mangiamo tutto quello che vogliamo mantenendo questo si riesce praticamente ad arrivare ad un'età avanzata in buona salute quando si diventa vecchi poi i figli non riescono più a sostenere l'attenzione quindi di conseguenza vengono magari mandati in posti di cura in posti di riposo quindi non siamo freddo ma vogliamo arrivare vecchi e sangue e poi i bambini devono guardare e i bambini i bambini i bambini che vogliamo è di non diventare vecchi di non diventare anziani in condizioni di salute precaria con poi il fatto di creare anche complicazioni per i figli per il fatto che ci devono devono praticamente prestarci attenzione quindi anche i vecchi hanno bisogno di prendere del coltipine del morinzi dell'RG EGL della spirulina e l'Iansman quindi spero quando sono 90 anni io vedo in Italia di seminari quindi spero di arrivare a 80 anni in modo di arrivare e riuscire a parlare in italiano ok yeah grazie grazie